Buongiorno, ben ritrovati con la rassegna stampa, la prima del Roma, operazione sicurezza, in via Morgan intervento sui sottoservizi, attese nuove piogge, idrovore sul posto. Furto in casa, fuga da brividi, gang di soccavo in azione a portici, feriti agenti e una coppia di anziani. In alto la grande attesa per l'ottavo di finale, il match di ritorno tra il Napoli e il Barcellona al Monjuic, la vittoria col Barça, vale tripla, quarti di finale mondiale e quinto posto, l'ambizione di De Laurentiis. Domani il ritorno in terra catalana, Osimen vuole ripetersi, Calzona tutti a disposizione, se vince entra nella storia azzurra. La cronaca omicidio del Ras Reale accuse flop per il killer a San Giovanni assolto Aldo Sartori. Le pagine interne, dossieraggio, Forza Italia si smarca dalla Lega, no all'organismo d'inchiesta, Barelli avanti con la commissione antimafia. Il finanziere indagato striano risponderò davanti al giudice, poi vedrete cosa succederà. In Abruzzo, testa a testa, Marsilio D'Amico per la presidenza, centrodestra in vantaggio, la conferma dai primi exit poll, bus di Forza Italia per portare a votare alcuni napoletani residenti nell'Aquilano, Martiuscello, amici che ce lo hanno chiesto. Tema europee, Renzi, voglio il 5%, arriva anche l'endorsement di Francesca Pascale. Teverola, l'ultimo saluto al poliziotto eroe. Celebrati i funerali di Nicola Barbato, Pisani era sempre sorridente e avremo cura dei suoi figli. Presente anche l'ex questore di Napoli, De Jesu, era un uomo straordinario, dedito al lavoro e alla famiglia. Da Casagiove, minaccia di tagliare la gola operatrice di una comunità bloccato 17enne. La donna si era rifiutata di dargli soldi e un pacchetto di sigarette. Lui ha provato ad aggredire anche i carabinieri. Proseguendo con il Roma, da Benevento i quattro torturatori davanti al GIP. Per primo sarà ascoltato 5, trovato con la droga dai carabinieri che gli notificavano l'arresto. Interrogatorio di garanzia per gli arrestati con l'ipotesi accusatoria di sequestro e sevizie. Ad Avellino appalti il ricorso degli indagati al riesame. A carico del Comune 4, i figlioni di inchiesta della Procura che ha perquisito anche il sindaco Festa. San Lorenzello, la banda dell'Audio A3 colpisce ancora, sono gli stessi che hanno sparato al proprietario di una villa. La cronaca da Napoli, dal Vomero, via Morgan, sotto servizi in sicurezza. Dopo la valanga di fango riversata a Sissabato in via Solimena, si continua a lavorare per evitare recidive. Le drogore restano ancora sul posto, per oggi si temono nuovi temporali. Allerta che prosegue per tutta la regione Campania. Anche oggi chiusi i parchi cittadini, allerta meteo gialla, prorogata fino alle 20. Martuscello, emergenza nazionale, il sindaco deve lavorare. L'amministrazione comunale non punti il dito contro il passato, adesso servono delle soluzioni definitive. Il commento di Benanzoni. Un futuro per la biblioteca Murialdo. Rione Luzzatti, la struttura famosa per la fiction, l'amica geniale, rientra tra gli mobili in locazione passiva. Il caso in consiglio municipale. Gallo non si smantelli subito, poi una soluzione alternativa. Ex mercato rionale di Ponticelli, la vicenda arriva in consiglio comunale. Il caso della struttura di via Lago di Scanno sollevato dal Roma, oggetto di un ordine del giorno di Pai Pais. Proseguendo con il Roma. Omicidio del Ras Patriziotto, assolto il killer dei Mazzarella. Il superpentito non convince, accuse in frantumi per Gesualdo Sartori, minorenne all'epoca dei fatti. Per lui il PM aveva chiesto 18 anni di carcere. Da Ponticelli torna la faida delle auto in fiamme. Tregua finita a Napoli Est, un incendio distrugge una macchina nel fortino dei De Luca Bossa. Piazza Nazionale, Negua e Carmela Rubino evade dagli arresti domiciliari, fermata specialista della truffa. Ma la Napoli furto in casa con fuga show, inseguimento da brividi tra le strade di Portici, arrestata la gang del rione Traiano, feriti alcuni agenti di polizia e una coppia di anziani, caccia aperta al quinto componente del commando. La Movida a rischio raffica di controlli. A Napoli Ovest, carabinieri in azione tra Fuorigrotta e Bagnoli, denunciati due parcheggiatori abusivi, scovate dosi di droga. Cocaina non stop, retata a Porta Capuana, nuovo blitz nella piazza di spaccio della Ferrovia, l'operazione con un 28enne in manette, sequestrato anche un pezzo di hashish. Autorubate o sottosequestro, messe in vendita, denunciato. Imprenditore di Casandrino esponeva autoveicoli a Sant'Antimo, finisce nei guai per ricettazione e anche per detenzione di proiettili. Ospedale Santa Maria delle Grazie, malati in barella, costretti a denudarsi in bagno per una gastroscopia. Privacy, c'è chi non dorme e non si lava da giorni. A Castellamare di Stabbia, ferito alle gambe, cugino di Fontana, parata commemorativa per il 24enne dell'Acqua della Madonna, ucciso il 7 febbraio. Il calcio, Napoli, una Champions per tre quarti, mondiale e quinto posto. Gli obiettivi per gli azzurri, l'eventuale successo contro il Barcellona, varrebbe la qualificazione al prossimo turno, aumenterebbe il ranking personale e quello dell'Italia. In caso di parità, invece, per accedere al Mondiale per Club occorrerebbero due vittorie nei quarti di finale. La classifica ranking del Mondiale per Club nel dettaglio. Ora la Juventus avanti con 47 punti rispetto al Napoli. Occhio però anche all'ipotesi del ricorso in chiave Mondiale per Club ipotizzata dal presidente De Laurentiis. La Repubblica Abruzzo vince la destra. Le elezioni regionali, il 45,9% per Luciano D'Amico, centrosinistra, il centrodestra con Marco Marsilio al 54,1%. Questa è la quinta proiezione per la regione Abruzzo. Le prime cinque danno il presidente uscente, Marco Marsilio, in netto vantaggio su Luciano D'Amico. Ha votato solo un cittadino su due. Fratelli d'Italia, primo partito con il 24,9%. Affermazione di Forza Italia, Lega all'8,4%. Il PD raccoglie il 18,4%. Male e 5 Stelle, il 7,1%. Lo sfidante, più di così, non potevo fare. Alleanza PD-5 Stelle esce più solida, intesa vicina per il voto in Basilicata. Mappamondi, Lira dell'Ucraina per il Pontepice. Mai la resa, la Chiesa stia qui. Nel dettaglio le pagine interne, le elezioni, l'Abruzzo a Marsilio, la destra e l'astensione fermano D'Amico. Le proiezioni danno la vittoria al governatore uscente. Le riste, Bene Forza Italia, oltre il 13%, tiene la Lega. Fratelli d'Italia vicino al 25%, il PD è sopra il 18%. Il Movimento 5 Stelle non sfonda poco più del 7%. Il Presidente attorno alle due di notte festeggia il BIS. Il testa a testa c'era solo nei loro sogni. Svanito lo spettro della prima crisi, Meloni si sfoga in chat. Ci davano per finiti. La Premier temeva l'effetto caos sulla maggioranza, invece ora spera in un bolano per le europee. L'idea di andare a festeggiare in Abruzzo. Nelle prossime settimane lancerà una campagna a tappeto in Italia e all'estero per rafforzarsi a Palazzo Chigi e chiudere definitivamente i conti con Salvini. Il centro-sinistra, l'assalto fallito, non frena l'alleanza tra Conte e Schlein. Indietro non si torna. Il voto rafforza il patto giallorosso. L'obiettivo dei DEM è di allargare al centro e ai movimenti civici. Resta il nodo della leadership. La segretaria PD. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, il leader 5 stelle. Il metodo Todd è quello giusto. Bonaccini lancia la corsa dei riformisti alle europee. La nostra gente vuole unità. La Kermess di energia popolare. L'evento a Milano col sindaco Sala che annuncia continuerò a fare politica. Gentiloni, il PPE chiuda ai sovranisti. PD e 5 stelle, nel dettaglio all'intesa più vicina, in Basilicata per l'Antibardi, pronta una rosa di nomi. Ancora in campo Chiorazzo, imprenditore che non piace. Ai 5 stelle il sostituto dovrà avere il suo placet. Il racconto la caccia al voto casa per casa. Bus di Forza Italia da Napoli per i fuorisede. La corsa delle due coalizioni per portare gli elettori ai seggi. L'idea del forzista Martuscello, un pullman dalla Campania, con soste nei seggi da Pescasseroli a Roccaraso. I dem mobilitano nei piccoli comuni e sui social, rilanciando gli sconti sui treni. Innocenti, lo spot elettorale della Premier negli spogliatoi. Nulla di male, lo dico da sinistra. Intervista al presidente della Federazione Rugby. Lei e Lollo Brigida nel 2000 festeggiavano in campo all'esordio del 6 nazioni. Marco Marsilio, il pendolare di Giorgia, esulta dopo la paura. Fallito il campo largo, ora andiamo a ballare. Luciano D'Amico, il figlio della montagna, accetta la sconfitta. Sono felice, più di così non potevo fare. Intervista al leader di Italia Viva. Renzi, Meloni spieghi perché non vuole inchieste sui dossier. Crosetto e Nordio hanno chiesto una commissione d'inchiesta. Se Fratelli d'Italia dice no, è evidente che il blocco viene dalla Premier. Von der Leyen non va rieletta. Ha fallito sulla riforma istituzionale UE e sul Green Deal mettendo in gioco in ginocchio le aziende. Quando il falco del Mastro difendeva l'amico Spione, il sottosegretario di Fratelli d'Italia, avvocato di un agente che fece 49 mila accessi, provò anche a piazzarlo alla regione Piemonte. Dettagli campani con Repubblica Napoli. La foto del vomero via Morgan corsa contro il tempo per finire i lavori. Le idee con Napoli capitale possibile della sostenibilità nel Mediterraneo. Tema Camorra, l'allarme di Gratteri. TikTok vetrina delle mafie. Tanti episodi in pochi giorni. Il video prima del processo per il delitto degli chalet a Mergellina. I filmati contro i pentiti di Arzano. I post sulle bombe di Ponticelli. Le pagine interne. Camorra sempre più social. Gratteri lancia l'allarme. TikTok è diventato la vetrina delle mafie. Tanti episodi in pochi giorni. I post sulle bombe di Ponticelli. La folla ai funerali del vice sovrintendente della polizia. Il capo della polizia Pisani. Barbato. Un grande esempio. Pisani ha parlato nella chiesa di Teverola ricordando il coraggio del poliziotto che fu ferito durante un'indagine sul racket. La sua dedizione ora cammini sulle nostre gambe. Lavori a Via Morgan. Corsa contro il tempo. Nuovi danni. Cresce la rabbia degli sfollati. Dopo la colata di fango di sabato che ha invaso locali appartamenti sostituito il collettore riempita la buga col calcio e struzzo. Alta l'attenzione per la nuova allerta meteo. L'obiettivo? Riaprire la strada prima di Pasqua. Ai disagi del traffico si aggiunge il dissesto in Via Cimarosa e la deviazione di ben sette linee di bus ANM per piazza 4 giornate. Ai campi Flegrei nuovo sciame sismico. Una serie di scosse registrate dalle 16 e 6 minuti. Due bimbe da Gaza al Santo Bono. I medici siamo pronti a curarle. La solidarietà? Aisella ha 4 mesi e problemi neurologici. Con lei un'altra piccola di 5 anni che ha una grave malattia epatica. Il BDG con Enna. Dopo la visita decideremo come intervenire. Movida controlli ai Decumani e Chiaia. Raffica di multe nel weekend. E poi l'addio a Gigi Morra. Volto di un mondo chiamato spettacolo. L'attore è morto a 78 anni. Funerali domani alle 12 nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia. Lo sport. Il Napoli. Tutto in una notte a Barcellona per vincere. Squadra al completo. Domani alle 21. Gli ottavi di finale in ballo anche la qualificazione al ricco mondiale per club. Catalani con diverse assenze per infortuni. L'analisi. Calzona studia in silenzio. Presidente già nel futuro. L'allenatore sa già come marcare il fenomeno Yamal. Ma preoccupa la difesa. De Laurentiis si batte per l'improbabile stadio a Bagnoli e sogna il mondiale USA con i super premi organizzato dalla FIFA per il 2025 con il ranking che conta fino al 2024. Gevi. Crollo con il Dertona ma playoff ancora possibili. Giornata da dimenticare per il team napoletano. A Casale Monferrato la sconfitta più pesante della stagione. 97 a 72. La squadra di Milicic resiste per un tempo. Poi i piemontesi dilagano. Sabato si torna alla Frutti Village Arena Palabarbuto. Milicic dobbiamo riprendere a correre. Abbiamo obiettivi e sogni ancora da raggiungere. E dopo la sconfitta di Cagliari la Salernitana vive la crisi profonda. Da tempo squadra subito in ritiro. Sabato il match con il Lecce. Continuano i rumors sul futuro del club. Nel pomeriggio si riprenderanno gli allenamenti. Nel dettaglio da Napoli le cronache. Ponticelli. Nuovo fronte contro i Bodo. Dopo la sfida di un RAS degli Amitrano. Un altro gruppo guida la rivolta nel rione dei Gasperi. I demico pronti adatti di forza per confermare la supremazia nel quartiere. Bruciata una vettura all'8-0 Roccaforte dei De Luca Bossa. Gratteri per le cosche e i social come una vetrina. Don Patriciello spero che il governo si impegni sul tema. L'ultimo saluto al poliziotto eroe Pisani. Onereremo il suo sacrificio. Barbato fu ferito durante un'operazione anti-racket. Ieri funerali il parroco Evaristo Rutino. Bisogna abbattere la cultura della violenza. Basto. Rugo in un appartamento. Famiglia in fuga. Paura in via Firenze. I residenti costretti a fuggire a ora di pranzo. Per fortuna è stato scongiurato il peggio. Appomigliano d'arco. Raid di piombo. I banditi sparano e rubano i soldi al Butterburger. Colpi esplosi in aria nella zona della Movida. L'assalto Champions. Zalageta carica Ossimen. Victor a Barcellona esulterà come me. Intervista esclusiva. Lex Bomber. Uno degli ultimi a espugnare la Catalogna. Pari per Atalanta e Roma. Napoli ancora vivo grazie ai risultati dell'ultimo turno. E' aperto proprio al Maradona con il pari tra il Napoli e il Torino. Cronache di Caserta. Minaccia di morte l'operatrice sociale a Casagiove. Il 17enne è bloccato e condotto in un altro centro per minori. Il sindaco. Episodio grave. Farò subito visita alla struttura. La paura è in comunità. Voleva soldi e sigarette. Coltello messo sotto chiave. Dissociarsi dal clan non basta. Schiavone resta al carcere duro. I giudici confermano il 41 bis per Cicciariello. Avvio terapia intensiva. Il Melorio perde pezzi. A Santa Maria Capovetere il servizio cardiologico sarà trasferito a Marcianise. L'alleanza scrive all'ASL un altro passo verso la chiusura. Bucano la parete di un appartamento. Ladri nel parco di Via Pugliesi. A Marcianise e case nel Merino, scoperti dai vicini, hanno fatto perdere le loro tracce. Casertana, Turris nel Merino, Cangelosi. Cambiamo passo il derby in serata alle 20.45 al Pinto. Ma l'infermeria è piena la sfida al Liguori. E andiamo anche con i dettagli da Salerno. Le cronache. Si attende dal 2020 Giffoni Festival Patrimonio dell'UNESCO. La sua conclusione appare urgente. Capitale della carta, Salerno pulita, parte la fase sperimentale per la Tarip. Occasione per la città. A Eboli si ingarbuglia la vicenda del centro commerciale. Sparita addirittura una richiesta di variante. Colata di cemento, peraltro, si troverebbe sull'argine di un torrente. Il calcio, la salernitana, i tifosi premono su Ierbolino. È ora di fare chiarezza. La squadra da oggi in ritiro. Don Antonio nell'occhio del ciclone. Il parroco di Oiara vieta la storica sagra delle pennette. Pagine interne. Salerno pulita, parte fase sperimentale per la Tarip. Occasione per la città. L'amministratore unico della partecipata del comune, Vincenzo Bennett, racconta la nuova iniziativa in campo. Salerno-Pepperwick. A livello nazionale parte all'iniziativa. La città capitale della carta. Andiamo con la città. Altri dettagli da Salerno. La cessione del club. Partita a scacchi. Proposte di acquisto e contatti. Il patron Ierbolino ha un bivio dopo la sconfitta a Cagliari. E la salvezza lontana. I tifosi chiedono chiarezza. La verità sul futuro della società. Calciatori sotto esame e in ritiro. Liverani resiste. Stadio Arechi. Campovolpe. Silenzi e piccoli passi. Anche il rendering nella foto. In alto. Da Eboli uccisero il fratello al rione Pescara. La Solimeno agli arresti spacciava. Rifiuti in Tunisia. Parte la gara per evacuare il sito di Serre. Andreola Libero. Cava dei Tirreni. Cantiere Eterno. Ancora attesa per via 5. Da Angri. L'allarme movida. Esplode Ordigno davanti al locale. Da Scafati. Graffiti solidali per un detenuto. Nel capoluogo minaccia la ex con un coltello. Paura a Materno. Giovane fermato dai carabinieri. Sempre da Salerno. Parapiglia alla partita di pallannuoto. Dirigente ferito. Altri dettagli. In questo caso con lo sport. Il corriere senza paura. Napoli scacco al Barça. Pressing. Ritmo e vero osi. La Champions domani un 4-3-3. Ricco di sorprese per eliminare Xavi. Calzona vuole regalare i quarti a De Laurenti. Sei tifosi dopo il pari al Maradona. Con il gol di Vittoros Simen. Che potrebbe essere marcato da Pau Kubarsi. 17enne. Tre novità. Rientrano Olivera, Rachmani e Traori. Allegri frena. Pioli lo sorpassa. In classifica ora il Milan al secondo posto. Copp-Mainers gela la Juve. Il Milan è secondo. Solo 2-2. Per Max con l'Atalanta. Pulisic affonda l'Empoli. La Roma acciuffa la Viola. E poi la follia della testata di D'Aversa ad Henry. Dopo il capo col Verona è pronto l'esonero. Lecce che sarà prossimo avversario della Salernitana alla Rechi. Ossimè nella prova del 9. Domani Vittor proverà a graffiare il Barça come all'andata. Doppio scontro generazionale con Lewandowski e il 17enne Kubarsi. Comincia la missione Champions tra i quarti e il Mondiale per Club. Il nigeriano sfiderà un baby difensore cresciuto in casa e lanciato da Xavi. Ben Nato vende bagnoli a DL La Compra. L'ultima uscita del presidente scatena la discussione a colpi di distinzioni poetiche. Testa e cuore Calzona vuole 11 scugnizi. Il tecnico lancia una squadra senza paura. Allenamenti ad alta intensità, possesso veloce, pressing alto, riaggressioni e verticalizzazioni. Da Barcellona ai Blaugrana, Lewandowski carica ma Ferran Torres in birico. Dipende tutto da noi. Un bel sogno sveglia Max. Coppmaners, obiettivo del mercato bianconero, apre e chiude la sfida. In mezzo ai gol di Cambiaso e Milik, innescati da McKennie. Allegri imposta una gara aggressiva, ma i suoi vanno a sprazzi. Prendiamo gol troppo facilmente. Altre due reti incassate, ma il tecnico guarda avanti. Allegri, peccato, però abbiamo guadagnato ancora sul Bologna. È tenuto l'Atalanta a 11 punti. Quindi la prospettiva della semplice qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Gaspo e Qualamano pari giusto. Juve, il futuro è già scritto. Bisogna cedere, servono subito 20 milioni. Danilo, siamo in difficoltà. La lucidità del capitano bianconero. Roma di ferro, viola gelata. Italiano avanti con Ranieri. De Rossi reagisce nella ripresa alla rete di Awar. Poi succede di tutto. Mandragora ritrova il vantaggio. Biraghi sbaglia, un rigore. Llorente pareggia all'ultimo respiro. Fiorentina amara, punti buttati. L'adrenalina di De Rossi, non cambio più. Pulisic e il Milan a mille. Un gol dell'americano. L'Empoli deve arrendersi. Pioli e i suoi superano la Juve e sono secondi. Folli a Lecce. Da Versa è fuori. Chiedo scusa, ma il Lecce pensa all'esonero. C'è semplice. Paul, Henri, ho preso una testata ingiustificabile. E anche il Rosso. Clamoroso a fine gara al Via del Mare. Il tecnico si scaglia contro il francese del Verona. Espulsi entrambi. Inter, Camaleonti, Camille modi di vincere. Turnover sistematico. Giocatori decisivi ovunque. Ma anche diversi approcci come negli ultimi match. A 15 punti dalla seconda stella. Dalla prima rivale Scudetto. 16 lunghezze di vantaggio. Lo Scudetto che per l'Inter può arrivare nel derby contro il Milan. Nel match di ritorno tra le due squadre. 8 pagine.it. A Napoli danneggiamenti in due ospedali. In poche ore medici aggrediti. Nel dettaglio. Dal CTO a Villa Betania. Momenti di paura. Personale aggredito verbalmente da pazienti e parenti. Aggressioni verbali. Danni al pronto soccorso. In poche ore due gli episodi che si sono registrati a Napoli. Il primo verso le 17.30. Accaduto al pronto soccorso del CTO. Secondo quanto ricostruito dall'organizzazione No Profit. Nessuno tocchi ipocrate. Alcuni parenti di un paziente. Per ragioni ancora non chiare. Prima hanno aggredito verbalmente il personale. E poi hanno rotto i vetri di una porta del pronto soccorso. Prima da Avellino pronti a compiere furti nelle case di via Piave. Fermati dalla polizia. Gli agenti della volante sono intervenuti e hanno denunciato e allontanato quattro sospetti. Pagina interna. Nel nostro sito. Nel dettaglio. In auto avevano guanti, binocolo e chiavi universali. Nell'ambito delle indagini volte a contrastare l'odioso delitto di furto in abitazione. Nel tardo pomeriggio di ieri. Di sabato. Poliziotti della squadra mobile e delle volanti. Anche alla luce delle determinazioni emerse in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Ora nel dettaglio. I poliziotti. Hanno immediatamente bloccato gli occupanti delle autovetture. Di cui due a bordo di una Renault Arcana. Presa a noleggio. E due in una Opel Astra. Procedendo a perquisizione personale e veicolare. All'esito di tale attività investigativa. In un vano nascosto dell'auto. Venivano sequestrate oltre 36 chiavi. Utilizzate per aprire molteplici. Tipi di serratura di abitazione. Un binocolo e guanti. Utilizzati per evitare di lasciare le impronte. All'atto del compimento del furto. I quattro sono stati denunciati. Per possesso ingiustificato di chiavi. E grimaldelli. Nonché allontanati. Con foglio di via obbligatorio. Dal comune di Avellino. Le due autovetture sono state. Depitamente sottoposte a sequestro. Da ultimo. Gli agenti dell'ufficio. Prevenzione generale. E soccorso pubblico. Hanno denunciato. In stato di libertà. Alla procura della Repubblica di Avellino. Un 46enne di Atripalda. In quanto sorpreso. Alla guida della propria autovettura. In stato di ebrezza. In prima pagina. Da pietra defusi. Furti in Irpinia. Carabinieri sventano colpo. In una rivendita di tabacchi. L'immediato intervento dei militari. Ha messo in fuga i malviventi. I carabinieri hanno sventato. La scorsa notte. Un clamoroso furto. Ai danni di una rivendita di tabacchi. È successo a pietra defusi. I ladri hanno tentato di penetrare. Nell'esercizio commerciale. Attraverso un foro. Praticato nel muro. Perimetrale del locale. Facendo scattare. L'allarme. L'immediato intervento dei militari. Ha messo in fuga i malviventi. Indagini che sono in corso. Da parte. Dei carabinieri. Della compagnia di Mirabella e Clano. Che hanno già acquisito. Le immagini del sistema. Di video sorveglianza. Per l'identificazione. Dei responsabili. Si tratta dell'ennesima azione criminale. Ai danni di divendita di tabacchi. in Irpinia. Dopo i recenti episodi. Tutti andati a segno. Ad Ariano Irpino. Da Benevento. Rivivi la diretta di Benevento Messina. Uno a uno. Pari a Amaro. Per la strega. La cronaca. Torture. Dal GIP. L'indagato. Che aveva perso la droga in caserma. Convalida dell'arresto in flagranza. Martedì interrogatori per lui. E gli altri tre. Da Napoli. I danneggiamenti in due ospedali in poche ore. Con i medici aggrediti. La cronaca. Nuovo duro colpo alla Movida. Un arresto. E quattro denunce. I carabinieri di Napoli centro. Hanno presidiato il cuore della città. E il quartiere Chiaia. Da Salerno. Giovane sorpreso sotto casa della ex. Con un coltello. Arrestato. E' accaduto a materno provvidenziale. L'intervento dei carabinieri. Nella giornata di ieri. Era già destinatario di una procedura di ammonimento. L'uomo. Si tratta di un ragazzo. Non ancora trentenne. Che ieri mattina è stato fermato. Ed arrestato. A materno dai carabinieri della compagnia di Salerno. I militari. Agli ordini del comandante Antonio Corvino. Lo hanno intercettato sotto casa della sua ex. Armato di un coltello. A lanciare l'allarme. Chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. E' stata proprio la donna. Che preoccupata per la presenza minacciosa sotto casa. Del suo ex compagno. Ha deciso di contattare il numero di emergenza. I militari. In pochi minuti. Sono arrivati nella zona alta della città. Sorprendendo l'uomo. Che all'arrivo dei militari. Era ancora armato. Condotto in caserma. Dopo gli accertamenti di rito. Il giovane è stato trasferito. Nel carcere di Forni. L'episodio avvenuto. In mattinata. Ieri a Salerno. Conferma ancora una volta. L'importanza di denunciare. E chiedere aiuto. Subito. Alle forze dell'ordine. per evitare che situazioni simili possano degenerare. E' tutto per la rassegna stampa. Ringrazio in regia Aldo Fenizia. Restate con noi. Restate su 8 Channel. Ringrazio in regia Aldo Fenizia